Aaron Paul di Breaking Bad e papà, la moglie Lauren Parsecian ha partorito una bambina È arrivata la cicogna a casa di Aaron Paul, lattore americano noto per la serie tv Breaking Bad e per film come Ned Forspade e Padri e Figlie. Il divo saluta larrivo della sua prima figlia, una bellissima bambina di cui non è stato ancora rivelato il nome. . Non ci sono parole che saranno mai in grado di spiegare quello che è appena successo al mio cuore, ha scritto la moglie Lauren Parsecian su Instagram, dove ha pubblicato le prime immagini della piccolina. I due sono sposati dal 26 maggio 2013. . L'amore tra Aaron Paul e Lauren Parsecian. . . Aaron Paul aveva annunciato la gravidanza della moglie a settembre 2017. . L'attore ha conosciuto la donna della sua vita alcuni anni fa, Galeotto fu il Coacalla Music Festival a Indio, California dove avvenne il primo incontro e dove, esattamente un anno dopo, i due cominciarono a frequentarsi. . . Nel gennaio 2012 è stato ufficializzato il fidanzamento, culminato nelle nozze celebrate l'anno seguente, in una location molto particolare, un parco dei divertimenti a Malibu con matrimonio a tema carnevale parigino negli anni 20. . . La Parsecian è una produttrice e regista che ha cofondato l'organizzazione No Profit contro il Bullismo Kim Kampai. . . Le prime immagini della bambina. . 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